Buonasera a tutti, benvenuti al quarto appuntamento dedicato alla graphic novel. L'ospite di questa sera credo che lo conosciate in molti, quindi la mia presentazione sarà davvero brevissima. Mi limiterò a dire che lo accompagneranno su questo palco Luca Raffaelli, scrittore, giornalista, saggista, uno dei massimi esperti italiani nell'ambito della narrazione grafica e la traduttrice di Abibi Randagazzi, che è anche una giovane scrittrice italiana. Quindi, insomma, lascio la parola a Craig Thompson, che accoglierei con un grande applauso. Buonasera. Io sono Luca Raffaelli, sono emozionato perché è la prima volta che incontro Craig Thompson e sono emozionato di vedere così tante persone a questa serata. Io credo che tra voi serpeggi una domanda. Ma prima di dirvi la domanda vi devo dire una cosa che mi è successa finendo di leggere Abibi venendo qui in treno. Ho appoggiato il volume sulla seggiola del treno davanti a me e un ragazzo mi ha guardato e ha detto perché è uscito, ho detto, scusa, che vuoi, che cosa... No, perché io ho partecipato al blog dell'autore. Sono emozionatissimo, non vedo l'ora di leggerlo. Io dico, sta per uscire, ma stasera c'è la presentazione al circolo dei lettori. Ah, allora faccio di tutto per venire. C'è per caso? Eccolo lì. Beh, cominciamo bene. Bravo che sei venuta. Allora, la domanda che immagino serpeggi in questa sala è ma il nuovo libro di Craig Thompson può essere emozionante quanto Blankets? Chi è che l'ha letto? Di voi? Di voi? Vabbè. Rispondo io? Sì. È incredibile. Perché alla fine di Blankets, se proprio uno vuole essere cattivo con l'autore, inutilmente, dice vabbè, è facile raccontare le proprie emozioni, è facile raccontare la prima storia d'amore. No, non è facile per niente. Non è facile per niente, non è facile farlo nella maniera in cui l'ha fatto Craig in Blankets. Però uno lo può dire, se vuole essere cattivo lo può dire. E quindi può pensare che dovendo fare un libro diverso e semplicemente parlando di altri personaggi non si possa arrivare a quell'altezza di emozioni, a quella profondità di racconto, a quell'intensità che si è raggiunta in Blankets. E invece, appunto, non è vero, non è così. Craig Thompson è riuscito a raccontare un'altra storia d'amore completamente diversa in cui non c'è nulla di autobiografico. Anzi, la sua sfida è stata proprio quella di raccontare un'altra storia di un altro mondo. Io sto parlando lentamente anche perché c'è una traduttrice bravissima che sta traducendo tutto quello. Posso anche parlare più veloce? Non ce la faccio. Sono travolto dalle emozioni e non ce la faccio. Comunque, è riuscito a raccontare una storia d'amore impossibile in qualche maniera, una storia d'amore in cui lui ha cercato di inserire quasi forzatamente degli elementi per poter evitare che la storia d'amore continuasse. Poi invece continua. E continua fino alla fine quando sembra che sia impossibile che possa continuare. E tutto questo è raccontato in maniera veramente straordinaria in una specie di... Forse, ecco, cominciamo così, da questa prima domanda. Io credo che questo sia il più lungo fumetto mai realizzato in Occidente. Perlomeno il più corposo graphic novel mai realizzato in Occidente. Pensi che sia così? Actually, you might be right. But, I mean, I don't know if that's important. Immagino che tu non abbia fatto quasi 700 pagine per quella. You know, with Blankets, it was supposed to be an act of defiance against what was typical of comic books at the time. Do you want to? Okay. You know, comic books in America were known for these giant, explosive, science fiction, fantasy epics that unfold in 24 pages. So I wanted to do a big book where nothing happens at all. In realtà penso che forse lei abbia ragione, che sia effettivamente il libro più lungo che sia mai stato scritto, ma non mi pare particolarmente importante. Con Blankets io quello che volevo fare era di sfidare quello che erano i libri esistenti, i comics esistenti dell'epoca, perché negli Stati Uniti all'epoca c'erano delle enormi storie che si svolgevano in 24 pagine con fantasie, cose che andavano e venivano, e invece a me interessava scrivere un libro estremamente lungo in cui non succedesse assolutamente niente. So Blankets was deliberately quiet and slow-paced e vulnerable and sparse, like a midwestern landscape. E quindi Blankets, di proposito, era un libro tranquillo, lento, in cui le cose procedevano lentamente, quasi speziate, come è un paesaggio del midwest. And with Habibi, my intent was different. I did want to craft more of an epic. I think part of the problem with graphic novels versus prose books is that these books that are 100 pages long and labeled as a graphic novel are essentially a short story because it takes many more pages of comics to communicate the same that you could put in a paragraph of prose. Invece con Habibi il mio intento era completamente diverso e direi che sì, avevo un'intenzione di scrivere un'epopea da un certo punto di vista. Uno dei problemi con la graphic novel, diversamente da quello che è il romanzo, è che ci vogliono molto più pagine per scrivere una graphic novel o quello che per esempio è contenuto in un paragrafo di un romanzo e quindi evidentemente diventa molto più lungo. Quindi se avete intenzione di scrivere una graphic novel che sia l'equivalente di un romanzo, questo in quanto a lunghezza e partecipazione possibile del lettore o della lettrice, se volete in altre parole che chi legge vi si immerga e anzi anneghi e non semplicemente guadi da una parte all'altra del libro, allora dovete scrivere un libro molto lungo. Sì, la differenza sta anche nel fatto che realizzare un graphic novel così lungo richiede tantissimo tempo. Quanti anni di lavoro per realizzare Habibi? Sette anni dal momento in cui l'ho concepito fino a quando è uscito e di questi sette anni, quattro sono stati passati a disegnare. Di solito ci metto circa due anni per riuscire a scrivere. Quando dico scrivere una bozza non intendo che io semplicemente scriva le parole. Quello che faccio è che abbozzo i disegni e quindi parole e tratto vanno di pari passo anche se non ho un disegno completo. Ma non è semplicemente un bozzetto, è più di quello. Poi lo rivedo, lo riscrivo, sono un po' ossessivo, ossessiono, faccio tutto questo e mi perdo nel garbuglio di quello che ho fatto. Il settimo anno è stato l'anno del tedio invece perché c'era la progettazione, bisognava scansire tutti i documenti, tutti i disegni, prepararli per la pubblicazione, gestire sei traduzioni contemporaneamente. Quindi questo è stato l'ultimo anno della mia vita, l'ho passato così. Non so se sai ma sette anni ci ha messo Michelangelo per realizzare la Cappella Sistina e anche quello era un lavoro molto complicato perché l'affresco una volta che è stato realizzato non si può poi cambiare almeno di scavare proprio nella parete. Siccome tu parli anche di parti ossessive del lavoro, immagino che in sette anni di lavoro su un'opera del genere si ha anche un'enorme fatica personale perché qualsiasi ripensamento a metà del lavoro è duro. Yeah, it's very difficult for me to separate where I changed the book or where the book changed me. It's completely interwoven really with my personal life. And seven years, that's the duration it takes for every cell to regenerate in your body. so it's true that like from the beginning to the end I emerged a different person. I'll take a break. Sì, è difficile per me separare il momento in cui io ho cambiato il libro e quando il libro ha cambiato me. Certamente questo libro che ha cambiato anche la mia vita, non dimentichiamo che sette anni sono il tempo necessario perché ogni cellula del corpo si rigeneri. quindi possiamo dire che io sono emerso come un uomo nuovo alla fine di questo libro. I was going to say I think that a creative project is similar to a romantic relationship that if you give up at the first sign of conflict you don't learn anything about yourself and like the purpose of a long-term commitment is to stir up your deepest issues and bring them to the surface and then if you can confront those issues you become a better artist or a better person. so I have the same attitude with art. and the bigger it is and the deeper it is the more rewarding it can be too. Io vedo il processo creativo come fosse una relazione d'amore, un rapporto romantico in cui se ci si arrende al primo conflitto non si impara nulla. il fatto di poter superare quelli che sono i conflitti di affrontare i problemi più profondi al nostro interno portandoli alla superficie è ciò che ci permette di essere persone o artisti nel caso del processo creativo migliori. Più è profondo ciò che si fa emergere migliore sarà la persona che ne esce o l'artista. credo che a questo punto sia necessario che io ti chieda di fare un piccolo riassunto della storia perché visto che l'abbiamo letta Rendi l'ha tradotta, io l'ho letta, c'è chi l'ha pubblicata però siccome stiamo parlando di Habibi io credo che tu debba fare un piccolo sì, una piccola descrizione. Habibi, well the name Habibi it's an Arabic word which generally means beloved or darling it's a term of endearment it's often the way a mother would address her son it's used by lovers too in all the cheesy pop songs Habibi Habibi over and over like a baby baby I'll wait a moment Habibi è una parola araba che viene utilizzata genericamente per dire amato, caro, amata, cara è ciò che una madre direbbe ad un bambino piccolo ma è anche quello che le canzonette più trite d'amore dicono e ripetono costantemente amore, amore, amore abibi, abibi, abibi so at the core of the story is a love story a very complicated love story between two child slaves and the dynamic between them I don't want to give away spoilers but the dynamic shifts from a sort of mother-son relationship to siblings to something like lovers adesso la storia nella sua essenza è una storia d'amore assai complessa è una storia senza volervi dare ulteriori dettagli per non rovinarvi la sorpresa è una storia di due schiavi bambini e la dinamica è tale per cui la relazione si sposta da quella che potrebbe essere descritta meglio come quel rapporto madre-figlio a un rapporto di fratria ha un rapporto ancora che è simile a un rapporto d'amore and the two characters Dadola and Zam inhabit a sort of a 1001 Nights sort of landscape I'm visiting a lot of the orientalist tropes of 1001 Nights so the harems and the deserts and the camel caravans but sort of mashing that up with some contemporary themes around religion certainly comparative religion and sexuality and maybe most importantly water crisis I due personaggi Dadola e Zam sono dei personaggi in una situazione simile a quella di Mille e una Notte e io visito dei tropi dei luoghi che sono descritti anche all'interno delle Mille e una Notte ci sono quindi i cammelli c'è il deserto ci sono gli harem ma contemporaneamente esistono anche delle immagini che provengono dal mondo più moderno sicuramente la religione le religioni comparate oppure ancora la mancanza d'acqua come problema questo riassumendo è la storia la mancanza d'acqua mi stavo organizzando sì a proposito di questo di questo passaggio alla modernità non so se sbaglio io ma all'inizio del libro sembrava di leggere una storia di altri tempi e poi a un certo punto del libro si comincia quasi sorprendentemente a scoprire che si sta parlando del presente è un meccanismo è una sensazione che tu hai cercato di una sensazione la cosa è una sensazione di 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 una sensazione che è una fairy tale dove I draw fast and loose from many differenti time periods e geographiche it's not specific to any country or culture really I'm sampling from all over the place Sì in una certa qual misura questo è stato intenzionale quello che volevo fare era di mescolare insieme diffondere nuovi mondi e vecchi mondi in fondo questa è una fiaba e quindi ho preso mi sono riferito a diverse geografie e diversi periodi temporali non è un paese in particolare cui mi riferisco ma tanti non è un periodo particolare a cui mi riferisco ma tanti ho cercato di prendere da tutti questi mettendoli insieme non uno specifico so that that intent was there from the beginning especially around like I said water crisis like I really really wanted to dig in with themes of pollution and water ownership and water bottling and and dams and you know those sort of systems but there were elements of the book that surprised me in terms of their modernity later in the book quindi quell'intenzione c'era lì fin dall'inizio volevo parlare in particolare della crisi dell'acqua dell'inquinamento della proprietà dell'acqua dell'imbottigliamento dell'acqua delle dighe per esempio ma ci sono stati degli elementi che ho introdotto nel libro nella prima parte che mi hanno sorpreso successivamente per la loro modernità però c'è anche un'altra cosa forse di cui volevi parlare della posso dire della profondità e della stranezza dell'amore se funziona funziona se no non mi occupo dell'immagine di cui l'amore storia è l'amore personal element di l'amore ma è hard to talk about it without talking about sexual trauma too which was a big motivation for the book I've always wanted to do a book around themes of sexual trauma because I think everyone experiences that whether it's something severe like rape or abuse or something more subtle like this sort of like religious dogma and the way that that can affect your sexuality or just the natural clumsiness of coming into your sexuality but it was whereas Blankets has these very innocent themes around awakenings of sexuality this dives into a darker space is that too much ok allora l'amore è sicuramente l'aspetto più personale di questa storia inoltre affronto il problema del trauma sessuale che è un argomento che ho sempre voluto affrontare perché qualche cosa che riguarda tutti può riguardare le persone per motivi molto gravi quale lo stupro il maltrattamento ma possono essere anche delle forme più sottili per esempio i dogmi religiosi oppure può essere una certa essere acerbi e non a proprio agio nel momento in cui si risveglia la propria sessualità in Blanket in questi temi erano affrontati nella loro innocenza il risveglio alla propria sessualità veniva visto così mentre io con Habibi ho esplorato il lato più oscuro di questo processo i due personaggi sono profondamente feriti hanno subito un danno interno e quello che mi interessa è che l'uno trova all'interno dell'altra un luogo in cui possano essere rimarginati questi danni e questo dolore hai usato prima di essere presente con un altro mi sembra che un tema che provenendo da Blanket è stato riportato anche in Habibi cioè che appartiene a tutti e due questi libri è che i due personaggi fondamentalmente trovano rifugio l'uno nell'altra però in Habibi affronta il problema più a fondo e soprattutto si capisce come ciascun personaggio debba aver rimarginato le proprie ferite prima di poter essere rifugio per l'altro tu hai saputo tra l'altro descrivere alcune situazioni terribili in questo Habibi di violenza di dolore di disperazione che in Blankets erano assolutamente personali ma non erano così oggettivi e lo hai fatto con una delicatezza straordinaria visto anche come hai parlato dell'America in Blankets la tua maniera di rappresentare la sessualità in questo nuovo libro come pensi possa essere accettata nel tuo paese soprattutto dai possibili lettori religiosi americani anche in treno sì il treno è là dove tu ho scritto bella domanda sì sicuramente e poi una cosa che a volte mi dimentico è che con una graphic novel l'aspetto è sempre visivo e mi dimentico del fatto che alcune cose con cui uno può farla franca in un romanzo che è solo scritto in prosa invece si vedono in una graphic novel per esempio stavo viaggiando ero in aereo e stavo facendo il lavoro redazionale ovvero l'editing della mia graphic novel e a un certo punto sono diventato mi sono sentita in disagio perché perché stavo guardando le immagini e pensavo a quello che gli altri avrebbero percepito di queste immagini cosa che non sarebbe successa se il romanzo fosse stato soltanto in prosa sessualità invece di violenza invece questo libro per me è stata anche una provocazione nel senso che ho voluto parlare di sessualità io sono più a mio agio anche parlando di sessualità e quindi ho deciso di farlo se però la tua maniera di esprimere di raccontare la sessualità non è comunque esplicita esiste in qualche maniera un'autocensura per esempio rispetto agli organi sessuali insomma tu questa cosa l'hai fatta in considerazione dei tuoi lettori è stata insomma una scelta personale o una scelta diciamo così editoriale un'autocensura un'autocensura che era censura un'autocensura 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 era personal un'autocensura un'autocensura in un'autocensura in un'autocensura d'autocensura un'autocensura edgier ma quando si stai a la page suddenly è diventata più ovviamente e più glaring so I tend to pull back a little and use the Hitchcock method that less is more certainly the reader fills in all the details you don't have to lay everything bare meglio mi fanno pensare che le devo togliere e applico quello che è il principio di Alfred Hitchcock meno è di più e con questo penso che chi legge riempirà i dettagli prima che di passare alle tue immagini anche perché così interrompiamo un pochino il flusso delle parole volevo chiederti a proposito del fatto che tu non avessi un editor ma tu hai realizzato questo libro già avendo delle certezze sulla sua pubblicazione? Beh, a dire il vero, sapevo sì che sarebbe stato pubblicato e per essere completamente onesto, all'inizio avevo qualcuno che faceva il lavoro redazionale, ossia un editor. Nella primavera del 2005 ho firmato il contratto negli Stati Uniti e avevo praticamente abbozzato, non avevo quasi iniziato a lavorare. Ed è stato poi nell'estate del 2005 che ho presentato un bozzetto, una bozza più definitiva a loro. Io volevo lavorare con una persona che voleva lavorare con l'India e in Francia, era molto cosmopolitanica, era una uomini, questo era importante per me, era perfetto. But then she ended up leaving soon after to move to a different publisher, so I lost her. Angeli Singh Allora, avevo un editor assolutamente straordinario, Angeli Singh, che è quella che ha portato negli Stati Uniti Persepolis e Epiletti, che è quella che ha tradotto questi libri per il mercato statunitensi. Indiana, cresciuta in Francia, una donna, cosa che per me era estremamente importante, era assolutamente perfetta. Purtroppo, dopo non molto tempo, ha lasciato la casa editrice e per cui ho firmato il contratto e quindi è sparita. Epiletti sarebbe il grande male di David Besse, in Italia è stato pubblicato con questo nome. Vogliamo vedere le immagini? Va benissimo, possiamo iniziare. Però chiedo sia a voi che al pubblico di interrompere se è il caso, non voglio che poi ci troviamo semplicemente e continuamente nella melma, per così dire, di queste foto che sono tantissime e che descrivono il processo di scrittura, mentre quello che mi interessa anche a me è poter continuare questo dialogo. Non spesso mi capita il privilegio di poter essere su un palco e fare un dialogo così. Neanche noi ci capita molto spesso di avere l'opportunità di vedere lui che ci mostra i disegni. Le immagini che vi farò vedere sono il processo, sono lo svelare. Proprio rimuovere il velo che nasconde quello che sono gli elementi un pochettino goffi dei ghirigori che sono quelli con cui ho passato gli ultimi sette anni. So this is the beginning of my sketchbooks. This is October 2003, a very, very long time ago. And I guess you could say that the book started with Arabic calligraphy, which has been described as music for the eyes. And this was really an idea that resonated for me as a cartoonist. Ecco qui potete vedere il mio sketchbook e siamo nell'ottobre del 2003, tanto, tanto tempo fa. Ho iniziato con calligraphia di caratteri arabi che sono stati, in arabo, che sono stati descritti come la musica per gli occhi. Questa loro definizione è qualcosa che ha trovato un eco molto profondo in me come cartoonist. The cartoonist Chris Ware talks about comics as pictures that you read, whereas these are words that you can just look at and savor for their visual aesthetics, their fluidity. Il cartoonist Chris Ware dice che le immagini di un cartoon sono delle immagini che si leggono, mentre se guardate queste lettere è esattamente il contrario. Sono delle lettere di cui possiamo godere con gli occhi. E per me questi sono dei comics perfetti, perché per me la calligrafia è la fusione perfetta tra parola e immagine. Ed è questo che io voglio ottenere quando faccio i comics. I have a few images here of how I researched for the book and I want to use that term loosely because I'm not an academic. The book is not an academic book at its core again. It's this relationship. It's this fairy tale. I felt like the main fuel was for my imagination. But then there's divergences or supplemental research. Queste immagini che seguono vi fanno vedere il tipo di ricerca che ho fatto. Uso il termine ricerca in un senso un pochettino lasco, perché non sono un accademico. In fondo l'essenza del libro è quello di una fiaba che viene narrata. E poi ciò che realmente ha nutrito il lavoro che ho fatto è stata la mia immaginazione. Però qua e là ci sono dei percorsi diversi che sono stati presi anche sulla base della ricerca. Incomincia con delle immagini che sono dei bozzetti e che sono state prese da delle fotografie. Se reagivo in qualche modo a queste fotografie, le trasformavo in disegni. And then I started collecting ideas. And these look very similar to my school notebooks, where doodles creep up in the margins. I was doing a lot of research. Well, the research was all over the place, I guess. I guess, to be fair, I was reading One Thousand and One Nights for the first time, but also recognizing it as an orientalist text, in the sense that it's an anthology that's shaped by a westerner with an outsider's view of eastern culture. So to supplement that, I wanted to research the Islamic arts and Arabic calligraphy and Islamic culture. Qui, come vedete, ho cominciato a raccogliere quelle che erano delle idee dei disegni e un pochettino come quando si hanno i propri sketchbooks a scuola o si hanno i propri quaderni, a margine ci sono anche i ghirigori, oltre che le informazioni. E poi devo dire che a proposito della ricerca, io ho incominciato a leggere le mille una notte, ma ho cominciato a leggerle essendo cosciente del fatto che erano un testo orientalista, ossia un testo in cui l'Oriente veniva visto dall'Occidente. Contemporaneamente ho cercato di studiare alcuni aspetti dell'arte islamica e della calligraphia. So first I collected images, then I collected ideas, and then I just started drawing the book in my notebooks, the same sketchbooks, one panel after the other, and this is from January 2004. Quindi sono partito dalle immagini, poi sono arrivata le idee, poi sono arrivato invece dei fogli da disegno, poi ho preso gli sketchbooks, ho cominciato a disegnarlo pannello per pannello. Questo è il gennaio 2004. Gennaio 2004, ho lavorato in questo modo per circa una settimana e mezza, poi ho preso nove mesi di vacanza. It's a lot of time to account for. Three and a half months was a big book tour in Europe, and that's documented in the Carnet de Voyage travel logbook I made. And then three months was Blanket's promotional tour in America, and then three months was just... Now, three months was like working out some business issues, working out some health issues, and finding a new home. So this was the time that I finally moved back to Portland, Oregon, set myself up in a new studio, and resumed writing in October 2004. And for me this is when I really started working on the book. Insomma, nove mesi sono un tempo abbastanza lungo e se devo rendicontare bene questo tempo posso dire che tre mesi e mezzo li ho passati con un giro in Europa presentando il libro, cosa che è documentatissima nel mio Carnet de Voyage. Poi tre mesi li ho passati con giri promozionali per Blanket negli Stati Uniti. e tre mesi, beh, tre mesi diciamo che mi sono occupato di questioni mie, di salute, di affari, poi ho deciso di trasferirmi di nuovo a Portland in Oregon e allora ho comprato una nuova casa, mi sono messo a posto. Diciamo quindi che ho ripreso a lavorare nell'ottobre del 2004, che io considero la vera data d'inizio. Ma non piove sempre a Portland in Oregon. Yeah, that's a good thing though. Sì, sì, ma è una cosa buona. Good for productivity, because when it's raining out, it's easy to get things done. When it's summer, we have the best summers in the world and when it's summertime, it's really hard to work. Ma è molto, funziona molto bene perché aumenta la produttività nel momento in cui piove. Invece l'estate, noi abbiamo le state più belle del mondo, è molto difficile lavorare. So take note that it's always fall time, settembre-october when I'm working and starting to work. So this is that first big landmark, october 2004. Quindi per favore vorrei che notaste il fatto che è sempre autunno il momento in cui io comincio a lavorare, settembre-ottobre alla fine dell'estate. Infatti questo è l'ottobre e questo è il momento in cui io ho cominciato a lavorare, una pietra migliare. Quindi io ho lavorato così, una pagina dopo l'altra, un pannello dopo l'altro, sono andata avanti, ho riempito un quaderno dopo l'altro e a un certo punto sapevo sempre quello che sarebbe seguito e poi a un certo punto non l'ho saputo più ed ecco cosa ho prodotto. And this was a spell that the book sort of cast on itself because we talked about some of the themes of water crisis and drought, primarily drought, but not just environmental drought, certainly other forms of drought for the characters, emotional drought, sexual drought, spiritual drought, and then for myself as the author, these intimidating bouts of creative drought. This is the first big one. Questo è una magia, è una magia del libro stesso. Il libro parla anche della crisi dell'acqua, della mancanza d'acqua, ma la siccità non è soltanto quella dell'acqua o dell'ambiente. La siccità assume altre forme. I personaggi del libro hanno una siccità emotiva, una siccità sessuale, una siccità spirituale e da un certo punto si è seccata anche la fonte della mia creatività, come vedete, e questa pure è una forma di siccità. Ed è a questo punto che io ho riscoperto i quadrati magici nel mio libro ed è molto difficile per me non parlarne. Quindi le quadrati magici sono essenzialmente un mystico sudoku, è questo talisman pre-islamico di Nord Africa, un quadrati 3x3 magico, dove ogni quadrati accompagna un lettera arabica e ha corrispondito numerico. E' una specie di sudoku mistico. In questo quadrato, che viene usato nel Nord Africa in maniera come fosse un talismano, vedete 3x3 e in ciascuno dei quadrati c'è una lettera che viene valutata per il suo valore numerico. E ho cominciato a pensare al libro come se fosse questo quadrato. Avrebbe avuto nove capitoli e ciascun capitolo sarebbe stato connotato da una parola che aveva a che fare con la lettera araba che si trovava in quel quadrato. Questo è solo un esercizio che faccio nei miei scrittori per la mia propria amusazione. Sono davvero influenzato da Rumi, il poeta sufi, durante il libro, e ho fatto i poemi Rumi e le tradizionali in formazione di comica. mi trasformavo per mio diletto in strisce. Rumi dice che bisogna spezzare il proprio cuore finché il cuore non si apre. e questo è quello che mi stava succedendo sia nella scrittura che nella mia vita. E allora ho preso i miei quaderni, i miei sketchbooks, li ho buttati per terra, li ho squinternati e nel momento in cui ho trovato i fogli separati, li ho poi riorganizzati come avevo pensato in base al quadrato. Questa è la seconda bozza, adesso vorrei andare un pochettino avanti e salto alcune immagini e vorrei passare ad un altro aspetto. Posso chiederti se poi hai capito da che cosa è dipeso il tuo blocco creativo? I think it was, it's impossible to separate the book from that drought. That's what the book is about, so I think I needed to experience that pain to write about it. I don't know which came first, the chicken or the egg. I don't know if I had the block first and then I wanted to explore it or if because the book was about all these themes of blockage and castration and drought that it also affected me that way creatively. Non lo so, cioè sicuramente questa siccità è quello di cui si discute nel libro. Non so se, penso di aver dovuto sperimentare anch'io quello che era il blocco, la siccità per poterne descrivere, ma non saprei dirvi se è venuta prima la gallina o prima l'uovo o se prima c'è stata una forma di siccità o di blocco all'interno del libro o prima l'abbia avuta io per poterla comprendere nel libro. So che il libro parla di blocchi, di castrazione, parla di siccità, di mancanza, di flusso e questo io dovevo sperimentarlo. So, Dodola, questo character I described earlier in the book is a sort of Scheherazade. She tells stories for survival. And in earlier drafts of Habibi, she was recycling many of the stories from 1001 nights. Qui torniamo a Dodola, che è un personaggio tipo Scheherazade, che racconta delle storie per vivere. Nella versione precedente di Habibi racconta delle storie che sono proprio tratte dalle mille e una notte. But I became less and less interested in the fantasy elements and they started to fall away and I became more interested in religious elements comparative exploring the connections between Judaism and Christianity and Islam, the three Abrahamic faiths. e ma mano a mano che è passato il tempo, mi interessava sempre meno l'aspetto fantastico di fantasia del libro e sempre di più mi interessavano alcuni aspetti religiosi. In particolare mi interessavano alcuni aspetti comparativi della religione. Il rapporto che c'era per esempio tra l'ebraismo, la cristianità e l'islam, ovvero delle religioni abramitiche. So along with the Arabic letter that represented each chapter, each chapter also explores a different prophet, usually a prophet that's shared, starting of course with Adam and then Abraham and in this chapter Jesus who's the second most important prophet in Islam. Ogni lettera araba, come dicevo prima, che indicava all'inizio del capitolo doveva anche indicare un personaggio nel senso di un profeta. Ho incominciato scegliendo dei profeti che fossero condivisi dalle religioni iniziato ovviamente con Adamo e poi Abramo e poi Gesù che è il secondo profeta più importante nella religione islamica. And this spread really illustrates this theme throughout the book of the juxtaposition of ugliness and beauty or the sacred and the profane. On the left there's this, I'm sorry, it depends which way, I guess on the right, there's this ugly hairy man's ass. And then on the other side is this graceful image of Jesus walking on the water. E questo è per illustrare la giusta posizione che esiste tra il brutto e il bello, tra ciò che è sacro e ciò che è profano. Dalla parte destra o sinistra della seconda di come si guarda, c'è un culo peloso di un uomo, mentre dall'altra parte c'è Gesù con la grazia. E qui si continua con una giusta posizione tra sacro e profano che attraversa tutti i libri, tutto il libro, scusate. E ho pensato anche che il libro dovesse rappresentare in qualche maniera i libri sacri, la Bibbia e il Corano che venissero giustapposti al mondo un po' crasso dei giornali e i comics. E qui potete vedere nella parte destra ha colori, tutto ha colori le storie della Bibbia e quindi potete vedere la Bibbia sotto forma di striscia. Almeno quello di Robert Crumb in bianco e nero. Conoscete la Bibbia illustrata da Robert Crumb? Vabbè. Posso intervenire però con una domanda? Perché tu stai parlando di Islam, di alfabeto arabo, ma questo tuo interesse, quando è nato? Cioè è nato per questo libro o era nato in precedenza e la tua passione per certe materie hanno influenzato l'idea del libro? È un'altra domanda. È un'altra domanda. No, è stata conjurata da questo libro. E io credo che ogni progetto influenzare all my interessi. So, io non posso separare i miei. Again, la stessa cosa a molti personali cose in mio life, che cosa sia personalizzata a mea di attraverso l'idea di attraverso l'idea di attraverso l'idea del libro. But also, the things that I'm reading and researching and wanting to look at are things that are fuel specifically for whatever project I'm involved in. Does that make sense? Not really. It's kind of tangled, I'm sorry. Buona domanda. In realtà, così come un prestigiatore fa uscire un coniglio da un cappello, è uscito dal mio libro. Direi che ciascun progetto influenza il mio campo di interesse e anche ciò che mi interessa nella vita, ciò in cui sono personalmente coinvolto, poi va nel libro, ma anche ciò che io ricerco per il libro ha poi un'influenza sulla mia vita. E aggiunge, non so se questo che ho detto abbia senso oppure no. Anche in questo caso non ci ha detto se è prima l'uovo o la gallina, insomma. I really don't know how to separate. Actually, I mean, yeah, I think the project informs what I'm interested in. Because the beginning of Habibi was a dream element, a subconscious element, which was the characters of Dadola and Zam. And then wanting to know them better and learning about their world really extended it into the sort of research I did. But, you know, so I was reading One Thousand and One Nights because it's a cheesy fantasy genre. But reading this fantasy made me want to delve in deeper to Islamic culture. Non lo so. Beh, però quello che posso dire è che normalmente il mio interesse parte dal progetto e proprio studiando per il progetto questo si riverbera poi nei miei interessi. Prendiamo Habibi, questo era iniziato con un'enfasi sulla parte del sogno, la parte onirica, con Dodola e Zam. Mi interessava comprendere meglio il loro mondo fantastico. Ma nel contempo, quando ho fatto questo, mi è sorto un interesse per il loro mondo, per comprendere meglio quello che era il loro mondo. Quindi anche se prima poi avevo letto Le Mille e una Notte, come dicevo, ma le Mille e una Notte sono anche un po' crasse. E quindi a quel punto mi è venuto voglia di comprendere più a fondo quelli che erano aspetti della cultura islamica. Grazie. Questo pertainso a un tema di cui mi sono sempre aspetti se si spiega e parlano in Arabic, o se si spiega e parlano in Arabic, che non è, non. Non ho anche l'euro, non ho anche l'euro. E non ho anche l'euro per questo libro. E non ho anche l'euro, non ho anche l'euro per l'euro. L'euro per l'euro, è un'attesa di un'attesa di un'attesa. L'euro per l'euro, è un'attesa di un'attesa. E questo è un altro esempio di cose che ho fatto. Molte persone mi chiedono se io sono in grado di parlare e di leggere l'arabo. No, non sono in grado di leggerlo né di scriverlo. Non l'ho imparato per questo libro. Imparare la calligrafia è l'opera di una vita. Quello che io faccio fondamentalmente è un ripassare il disegno in maniera provetta. Io dipendo e mi servo da un gruppo di amici che conoscono e parlano bene l'arabo. E quello che succedeva è che a volte io chiedevo a loro di tradurre dall'inglese all'arabo o di riportare dall'inglese all'arabo alcune cose scritte oppure mi davo da fare e sgattavo un po' in giro per trovare dei testi arabi che poi utilizzavo. E io usavo la computer come un'intermedia l'arabo di fare un'arge in un'intermedia. Quindi, io usavo un'arge in un'arge in un'arge in un'arge in un'arge, metto un'arge in un'arge in un'arge con un'arge e con un'arge. quindi il final drawing on paper è il mio ink e il mio brush on paper ma non è perché posso scrivere in arabica come questo, sono essenzialmente copiando allora in particolare mi interessava la poesia poi vedete qua quello che io faccio è che lavoro molto col computer allora io prendo un testo arabo poi faccio un copia e incolla poi lo rigiro un pochettino per vedere, poi lo lavoro con photoshop, poi lo fondo col mio testo e poi a quel punto lì lo ripasso e lo pezzo su un pezzo di carta quindi fondamentalmente è quello che sto facendo non è che sto scrivendo in arabo sto facendo un esercizio di copiatura raffinato quello che facevo però nel momento in cui prendevo un testo in arabo tipo questo è che volevo che esaltasse l'immagine cioè che il testo che io riportavo avesse la funzione di esaltare l'immagine quindi qui vedete è riportata la poesia della pioggia o un salmo della pioggia o il canto della pioggia del poeta iracheno Bedir Shekir al-Sayab so as the title suggests it's about rain but it's about far much more much more than rain it's about the death of his mother his mother died when he was two years old he was born in Basra, Iraq and when he was six his father sent him to live with his this is a long story should I get into this story right now? do you want, are you up for this? yeah, that's okay his father sent him to live with his grandparents in Baghdad and he went on to study English at university he was really influenced by English language poets like T.S. Eliot questa è una poesia sulla pioggia ma in realtà è molto più che non una poesia sulla pioggia il poeta perse la madre a due anni e viveva a Basra era nato a Basra in Iraq suo padre a sei anni l'ha mandato a vivere con i nonni a Baghdad e lui poi ha studiato inglese a Baghdad è stato molto influenzato da poeti inglesi quali T.S. Eliot and so the British were occupying Baghdad at the time and he was persecuted for his political beliefs as a communist as a Marxist he was imprisoned and he fled to Kuwait where he went on to teach English in English poetry and literature but he was continually persecuted for his political beliefs e lui è fuggito e fuggito in Kuwait dove insegnava letteratura e lingua inglese ma fu perseguitato sempre per le sue idee politiche ed infine rimase prigioniero del proprio corpo sviluppò una malattia degenerativa che lo paralizzò dalla vita in giù and so in 4 years time this disease took his life but it was also his most creatively prolific time and this poem Rain Song was written at the very beginning of that era so it's a poem about rain and it's a poem about the death of his mother and this maternal relationship is crucial in Habibi and it's about being an exile from his homeland of Iraq which felt really pertinent in the current political climate quindi è una poesia sulla pioggia ma è anche una poesia sulla morte della madre e questo rapporto madre-figlio è essenziale in Habibi e poi è anche una poesia sull'esilio dall'Iraq che nella situazione attuale pareva un aspetto molto rilevante penso che questa sia una buona immagine su cui finire così possiamo poi adesso prendere delle domande e fare altro prima di delle domande dal pubblico perché ho cominciato a prepararvi volevo coinvolgere mi approfitto per intrufolarmi ecco intrufolati ti prego vorrei intanto ringraziare il circolo dei lettori per avermi invitato non solo perché ho avuto l'onore di tradurre Habibi ma anche perché si tratta di una storia intensa particolarmente intensa che mi ha sconvolto sia per la sua per il suo essere vertiginoso vertiginoso da un punto di vista emotivo ma anche perché Craig Thompson ha in qualche modo fatto in 6-7 anni un percorso che molte seconde generazioni di fede musulmana invece fanno nel corso di tutta una vita e quindi è una cosa che tocca moltissimo anche perché il fumetto la graphic novel è uno strumento che ha un impatto visivo fortissimo ho letto Habibi insieme ad un altro ad un compagno di viaggio di lettura che invece non era musulmano ma era protestante ed è stato interessante notare come la storia fosse scioccante per tutti e due come andasse a toccare delle corde sensibili per entrambi quello che invece voglio chiedere a Craig è più legato all'attualità oltre a essere un'autrice mi occupo di un magazine online che è scritto proprio da seconde generazioni musulmane e mi sono resa conto che gli argomenti più forti che vanno a toccare i corde più sensibili che creano dibattiti veramente accesi sono sempre la sessualità il sincretismo religioso le tematiche di genere e quindi argomenti che tutti uno per uno ho ritrovato in Habibi quindi la mia prima curiosità è perché hai deciso di entrare dentro questo mondo il mondo islamico partendo immediatamente dai suoi meandri più oscuri e quindi non in punta di piedi I think especially around sexuality and women's rights those same issues are at the core of all the Abrahamic faiths so it's no better or worse well maybe it's worse in Christianity in Judaism they all share some of those dark elements around sexuality in fact I think the shame theme in Habibi comes much more from Christian background a puritanical Christian background than from Islamic culture that sometimes embraces sensuality fair io penso che in particolare per quello che riguarda la sessualità e i diritti delle donne sono dei problemi che si evidenziano in tutte le religioni abramitiche e poi per esempio per quello che riguarda il problema della sessualità mi sembra che l'ebraismo o il cristianesimo condividano questo aspetto scuro che non sia non è meglio ne è peggio per quello che riguarda la vergogna così come è descritta in Habibi mi pare che questa si riferisca ad alcuni aspetti che connotano il cristianesimo piuttosto che non l'islam perché ci sono anche situazioni nell'islam in cui la sessualità viene vissuta più appieno and you know sort of the beginning of patriarcal society corresponds with monotheism in Abraham at least in terms of biblical history so there's lots of theories that there was a less gendered god in the bible until Abraham came along and sort of imposed a masculine gender inoltre si fa coincidere l'inizio di una società patriarcale con la religione abramitica e si pensa alcuni pensano che ci fosse un dio biblico meno connotato dal punto di vista di genere ed ecco l'arrivo di abramo che invece viene attribuito a questo dio una connotazione maschile. So che ci sono 99 nomi per Allah nell'Islam e mi sembra, se non sbaglio, che alcuni di questi siano anche femminili. Non è così? Sì confermo pur non conoscendo a memoria i 99 nomi di Allah e a proposito di questo il concetto che esprimevi adesso è ancora più vero nella tradizione mistica islamica, nella tradizione sufi e infatti mi sono chiesta se il titolo che hai scelto Habibi che significa my beloved, mio amato, è esclusivamente riferito alla storia d'amore in tutte le sue accezioni o se è anche un riferimento al fatto che i sufi chiamano Allah, la loro divinità, anche mio amato. You're right, definitely actually in all the Abrahamic faiths what interests me most is the more esoteric variations on them. So Sufism in Islam, the Gnostics in Christianity, Kabbalah in Judaism. I think all of these are more about bringing down boundaries and focusing on a static perception, a divinity. So it is like having a love affair with God. Sorry, that's so much. No, it's just difficult. Lei ha ragione, in tutte le religioni abramitiche io ho una preferenza per la varietà o la declinazione di tale religione in senso esoterico che siano i sufi gli agnostici o la Kabbalah o Kabbalah. Io penso che questi diversi approcci sfumino i confini e non sono statici, è come avere una storia d'amore con Dio. Posso approfittarne per fare un'altra domanda? Torniamo un attimo sull'attualità. Io ho letto su internet, poi bisogna vedere cosa è vero, visto che prima cena mi ricordavi che non tutto quello che hai riportato lo hai effettivamente detto. Però ho letto che tu avresti detto che lo scopo di Habibi, uno degli scopi, era umanizzare il mondo arabo. No, non l'ho mai detto. Ok. Ah, great. Quindi sulla base di questo nobilissimo scopo, che tra l'altro è ancora più nobile se si pensa che si tratta di una graphic novel scritta in inglese da un autore americano che non conosceva il mondo arabo prima di iniziare Habibi, ecco mi chiedevo se avevi in mente anche un'audience araba mentre scrivevi, quindi se pensi che questo libro possa essere tradotto o avere comunque accesso anche al mercato dell'editoria araba, che è molto particolare, e invece dal punto di vista appunto dei non musulmani, quali sono state le reazioni negli Stati Uniti a questo tentativo di umanizzazione del mondo arabo-islamico e di avvicinare il concetto di amore e di pace all'islam? Allora? Allora? No. That's a lot of stuff. Ok. It's true that I was seeking to humanize Islam, because there was this wave of Islamophobia in the States in the wake of 9-11 or whatever, that instead I wanted to focus on the beauties of the faith and culture of Islam, and the more I looked into it, the more commonalities I saw with my own Christian upbringing. I'll wait. Sì, ci sono molti aspetti in questa domanda. È vero che io cercavo di umanizzare l'islam, in particolare dopo l'11 settembre c'era stata un'ondata di islamofobia negli Stati Uniti ed io, affrontando di più aspetti della bellezza, della fede e della cultura islamica, cercavo di identificare anche i punti in comune con quella che era stata la mia provenienza cristiana. For better or for worse, when I make a book I'm not really thinking of audience. You're writing for everyone in the world and no one whatsoever at all, except for yourself perhaps. And so there's a naïve sort of oblivion when you're making something. Ma che sia un buono o non buono, io questo non lo so, ma so che non scrivo per un pubblico. Io scrivo per tutto il mondo e scrivo per nessuno. Forse nel momento in cui scrivo, scrivo per tutti meno che per me stesso. È come un oblio un po' ingenuo nel momento della produzione. So, I mean, the book is about tearing down boundaries in general. So, boundaries between Christian and Muslims or Jews, but also boundaries between men and women, between rich and poor. When I say it like this, it sounds very grand. I mean, but I guess that's the energy I was operating from, that there are no separations. There are only imagined boundaries. Il libro riguarda i confini, i confini tra cristiani, ebrei e musulmani, ma anche tra uomini e donne, anche tra ricchi e poveri. Detto così sembra un pochettino grandioso, ma quello che voglio dire è che, a mio parere, non vi sono queste barriere, queste separazioni e questi confini. I confini e le separazioni sono immaginati. Prima di passare magari a parola al pubblico, faccio un'ultima domanda. Spero non mi odierete. Ecco, mi chiedevo, quello che succede con le storie, penso che valga tanto per chi scrive romanzi, quanto per chi scrive graphic novels, è il fatto che una volta che si è consegnata la storia, che si è concluso il lavoro, in qualche modo la storia non ti appartiene più. Quindi si presta alle mille interpretazioni, alle mille prospettive, all'uso che chiunque ne vuole fare, liberamente. E quindi ti voglio fare un paio di domande su dei simboli, delle allegorie, dei personaggi che ha inserito in Habibi, su cui noi, io e chi ha letto il libro con me, abbiamo fatto le nostre teorie. Non è giustissimo nei confronti di chi non l'ha ancora letto, ma cerchiamo di non svelare troppo, magari. Ups. Allora, c'è un personaggio veramente curioso, che inserisci quasi verso metà o la fine della storia, che è un pescatore, di nome Noè, Nunu, che è il personaggio più strampalato che compare nel corso della storia. Sono veramente curioso di capire da dove l'hai tirato fuori, proprio perché è un personaggio che sembra non connesso con il resto del mondo, visionario, e in qualche modo tira un po' le fila del momento, che è un momento anche di disperazione per Dodola e Ezam. Chi rappresenta? Cosa significa? In parte, è levità, leggerezza. Quando il libro diventa troppo scuro, introduco un personaggio che porti un po' di leggerezza. Quando lavoro sul libro, parto i drafti con i miei amici. erano i miei reali editori, i miei amici, e c'erano alcuni persone che voleva che mi chiedessero che il personaggio all'interno. Quando scrivo, io faccio leggere a dei miei amici, ai veri amici, che sono poi i miei veri editor, se vogliamo, chi fa il lavoro redazionale, e alcuni di questi volevano che io tagliassi via il personaggio, lo eliminassi del tutto. They felt, come tu suggerisci, che era una divergione, che suddenly la storia era in una nuova direzione. only in my opinion, that's a good thing. I wanted the story to branch off at times in random trajectories. Mi dicevano, è un diversivo, svia rispetto alla storia principale, ma questo mi va bene a me, perché io volevo che la storia divergesse in alcuni momenti, in maniera quasi casuale, prendesse un altro sentiero. e poi lo amo molto, mi sento collegato a lui. E' un pochettino, diciamo, un ottimista goffo all'interno di questa situazione da catastrofe. Adesso che lo descrivo, sembra un po' come l'America, ma non è così. E vuole occuparsi di tutti, ma fallisce completamente. L'ultima associazione che volevo capire è se esistono dei riferimenti alla dannazione del petrolio, alla maledizione del petrolio, cioè a questo elemento che compare e che rende più brutti determinati territori, che li fa crescere, proliferare, sviluppare, ma crea anche quasi un vuoto nell'anima. Allora? Allora? Allora, I don't know if it's specifically oil, ma certainly consumerism. And for everything you consume, you produce waste. And it's easy in our parts of the world, or at least in America, to make those things invisible. All the waste you produce and the pollution, but it all goes somewhere. And usually, it's the same with economics, really, wherever there's a pocket of wealth, it has to be feasting off of poverty somewhere else in the world. Non so se sia il petrolio, sicuramente è il consumismo, perché quando noi consumiamo produciamo degli scarti. È molto facile, nella nostra parte del mondo, perlomeno negli Stati Uniti, rendere invisibile lo scarto tutto ciò che noi non vogliamo, che sparisce da qualche altra parte. Così come quando c'è ricchezza da qualche parte, questo vuol dire che tale ricchezza si nutre della povertà di altrove. mi hanno detto che tu saresti anche disposto a fare qualche disegno? Sì? Potrebbe essere una cosa di vostro gradimento? Forse in piedi? Come funziona? Sì, ma sì perché ero vicina, adesso qui si... Dallo a lui piuttosto. Allora la prima domanda dal pubblico te la faccio io ed è a proposito del blog del signore che è qui presente. Volevo sapere che funzione ha avuto il blog, se è stato un altro editor, se è stata una semplice comunicazione con i lettori, insomma se... In che maniera... In che maniera questa... Siamo imprigionati adesso? In che maniera il blog ha influito sulla lavorazione di Abibi? Il blog ha molto a che fare con l'isolamento in cui sono vissuta per sette anni. Prima del blog io avevo girato molto per la promozione di Blankets. Quindi a un certo punto ho just stopped traveling and stopped promoting Blankets so I could focus solely on Habibi and then at that point I felt very isolated in my studio because I had no interaction with my readers. E quindi a un certo punto ho deciso di smettere di viaggiare e ho deciso di smettere di fare le promozioni per Blankets e di occuparmi semplicemente di Abibi. A quel punto mi sono trovato molto isolato nel mio studio e il blog è servito a questo. Quindi il blog serviva proprio a questo. Mi dava l'idea che avevo un qualche contatto con i miei lettori, le mie lettrici che non ero completamente isolato e quindi grazie per aver letto il blog. Bene, ci sono mani alzate? Sì, laggiù in fondo. Come facciamo? Allora abbiamo una valletta. volevo chiedere a Craig se lui ha mai avuto la fortuna di conoscere visto che viene dallo stesso paese di persona Will Eisner e se ha mai seguito magari delle sue lezioni di persona o se magari ha avuto un'influenza dai suoi lavori leggendoli. Poi un'altra cosa piccola se qualcuno gli ha fatto notare che il suo titolo leggermente anagrammato di Abibi in italiano suona un po' come uno dei libri più letti anzi il libro più letto nel mondo che è la Bibbia. Grazie. So I never knew Will Eisner unfortunately but I did meet him a couple of times and he was certainly an influence as an individual as a sort of emotional role model because he was this very generous friendly open man and very sort of creatively vigorous like when I met him he was in his 80s and he was still very energetic and generous with his time and his fans. Non ho mai saputo questa cosa della Bibbia ma non ho mai conosciuto Eisner nel senso che l'ho incontrato ma non l'ho mai conosciuto e una cosa mi ha coinvolto molto emotivamente e sicuramente è stato un ruolo per me era una persona molto generosa col proprio tempo molto amichevole molto aperta ed aveva anche una grande forza creativa io l'ho conosciuto che aveva più di 80 anni ma era ancora molto attivo e generoso I forgot what I was going to say about Eisner so he wasn't in a specific visual influence as much as a role model as a person and as an older cartoonist I have the privilege of getting an award from him the last year that he presented the Eisner awards which is this big American Comics award that's named for him so I feel very lucky to be present that year last year of his life that he did that his name he did he did the last year he did he did and it was important for me to receive the prize to his hands Pensa che volevo dirti proprio questo che in Habibi più che in Blankets anche dal punto di vista visuale ci sono nella recitazione dei personaggi c'è qualche cosa che può ricordare Eisner I think the two lessons I learned from his work is in the brush work especially now in the United States it's not cool to use a brush at home I use an old fashioned brush in Inkwell but these days everybody uses either digital art or they use a pen or a beak nib pen so the brush I share with Eisner I feel like it's this old fashioned graceful tool from a past era like a lightsaber Allora due lezioni ho imparato da Eisner una è quello che riguarda il pennello perché negli Stati Uniti non usa più il pennello c'è chi utilizza il digitale c'è chi utilizza una penna una stilografica una bic qualunque cosa ma non un pennello ed è un pochettino come un lightsaber da guerre stellari mani no non mi fate così eccoli io lo so che ce l'avete le domande ma non avete il coraggio di esprimerle ma non hanno unasmago ma non avere un pochettino pa Early si afora se vuoi luci al matto se vuoi le so all'ini and make that fluent or if you like write the whole script before and playing everything thank you do you want to translate it? no, no, no could you repeat that please? I didn't take notes I could try to paraphrase it if that's okay so the way in which I write the story is this correct? if I'm writing primarily in words or a script or how this first draft works is that the core of the question? so actually I'm always writing and drawing simultaneously I never separate the process to get all together in some of those slides I was showing the thumbnails or the sketchbooks and so I work for a year or in this case two years sorry it's a lot doing a very loosely drawn version of the book and I completely redraw everything once I've set everything in stone in that draft e però una volta che la storia è completa in questo modo è incisa nella pietra usa questa espressione allora ricomincio e ridisegno le cose posso chiederti se è più divertente la prima parte del lavoro o la seconda? that's a good question so I think probably that first surge of emotional fulfillment comes in the draft except in the case of Habibi I couldn't figure out the ending so the draft never had a true ending Allora la prima risposta è che sicuramente disegnare dà più soddisfazione che non scrivere perché è più tangibile magari se uno deve scrivere può passare settimane o anche mesi e non scrivere nulla oppure avere un pomeriggio particolarmente produttivo mentre per quello che riguarda il disegno io mi alzo la mattina faccio una pagina e la sera ho qualcosa da vedere per quello che riguarda invece la prima rispetto alla seconda parte non lo so ma dunque la bozza ci ho messo due anni da un certo punto di vista per lo scrittore nel momento in cui si è terminata la bozza si è finito quello che è la spinta emotiva ma nel caso di Habibi per esempio io non sapevo quale sarebbe stato il finale nel momento in cui avevo fatto la bozza e quindi in questo caso avevo il finale da fare E il finale quando è arrivato? ok great question actually what happened is I drew the book for about three years so October again in the autumn October 2006 until summer 2009 and then it was summer so I couldn't focus and I was supposed to be finishing the book but I didn't know how it ended I'll wait a moment so I had to take five months off to just work on writing again so July, August, September October, November and then December all of those days I was just writing once again and obsessively pacing back and forth and drinking coffee and being the classic neurotic writer I had to do it I had to do it for three years from October notate bene autumn, October I was written from October 2006 until summer 2009 because then I can't focus on what I'm doing on what I'm doing but I didn't know how to finish the book and I in 2009 I had to finish this book so finally in December of that year after writing maybe ten variations on the ending and discarding them I found the one that resonated for me and I was saying this earlier today that the trick with writing fiction is that you're making up a big pile of lies and in the midst of those lies you have to find truth or honesty and so that's what I was searching for in the ending a dicembre di quell'anno ho trovato il finale avevo scritto dieci versioni diverse del finale e nessuna mi aveva funzionato e finalmente ho trovato il finale che funzionava per me io come dicevo oggi qualche ora fa quando uno scrive la fiction in fondo scrive una gran quantità di bugie e allora all'interno di questa gran quantità di bugie ad un certo punto deve trovare una verità o ciò che ha un eco dentro di sé di verità beh posso dire che il finale è bellissimo è esattamente quello che doveva essere facciamo un applauso qua applaudite vi assicuro io che il finale è bellissimo anche perché è un finale anche perché è un finale diretto in cui però c'è da capire qualche cosa vabbè mica ho fatto spoiler no non ho detto niente dov'è dov'è buonasera volevo fare una domanda che si rivolgeva prevalentemente al tratto al disegno e parlando del disegno soffermandosi un attimino sulla penultima di domanda come il disegno incrocia il finale ovvero il finale è stato innanzitutto un testo è stato un momento in cui ha disegnato un finale come i due elementi il tratto e la rielaborazione del testo si sono incrociati in quello che poi è la ricerca del finale ma allo stesso tempo invece rispetto al tratto al disegno come dal punto di vista delle rappresentazioni quindi della ricerca del tratto di un paesaggio di una rappresentazione quindi del portato che l'arte può avere da questo punto di vista lei si colloca nella ricerca che ci ha mostrato poc'anzi anche dal punto di vista calligrafico che è un attimino più diretto per chi disegna e scrive allo stesso tempo grazie so as i was describing arabic calligraphy earlier as this fusion of word and pictures that's what the ending for me is it's the moment when all the separate elements finally fuse so throughout the book it's hard to talk about this without revealing spoilers but it was neither word nor picture for me because both of those again are are imagined definitions and boundaries I think they're one and the same when it comes to communication come dicevo già prima quando parlavo della calligrafia araba che vedo come la fusione tra la parola e il disegno anche la fine è la fusione tra la parola e il disegno o il tratto in un momento in cui tutti gli elementi separati si fondono insieme non posso dire di più per non fare uno spoiler per non rovinarvi quello che è il finale ma quello che posso dirvi è che non è né parola né disegno e che la definizione in questo senso è immaginata e che è uno e tutto in insieme faccio la domanda ciao mi alzo volevo evitarmi questo imbarazzo comunque io volevo fare una domanda su Blankets perché a Bibi non l'ho letto comunque tutti i tuoi fumetti mi sono fatta mi sono fatta un'ora di tre non ha capito niente ah sì volevo fare non ho fatto la domanda comunque volevo fare una domanda su Blankets perché a Bibi non l'ho letto ho tutti i fumetti di Craig Blankets in assoluto il mio preferito in assoluto di tutti i fumetti mi ero preparata la frase da Google Translate ma non c'è bisogno visto che c'è la signora beh ancora meglio sei fra i miei ispiratori perché sono vabbè volevo dire che sono un aspirante fumettista se vuole dare qualche consiglio agli aspiranti fumettisti e poi volevo dire anche se gli è pesato raccontare una storia autobiografica come Blankets e si è pensato di raccontarla come se fosse la storia di un altro questa è la domanda la signora si infastidita non c'è bisogno non c'è bisogno Chunky Rice, che suddenly it was able to, as you were saying, go out in the world and have its own life. And before that it was all these false starts. So it's important to just see something to completion, and then shuffle it out of the nest, and even if it falls to the ground and dies, at least it's been born. Il consiglio che posso dare è di finire qualche cosa, perché questo perlomeno si riferisce alla mia storia, alla mia brutta abitudine che avevo, che era quella di iniziare tante cose e di non finirle mai. A un certo punto invece Chunky Rice, per esempio, l'ho fatto, l'ho buttato all'onor del mondo. È un pochettino come un uccellino da un nido, bisogna buttarlo fuori. Poi se cade a terra e muore pazienza, è vissuto. Però bisogna a un certo punto buttarlo fuori. And also to start, for cartoonists at least, to start in small steps. So first I did like a newspaper strip, and then I did short stories, like mini comics, homemade comics, and then I did Chunky Rice, which was a 100 page story, and then I did Blankets, which is five hundred pages, and then I did Habibi, which was almost 700 pages. So it's important to not just jump into a graphic novel at the start, but to sort of work your way up. E poi secondo me bisogna andare passo passo, cioè bisogna, io per esempio ho incominciato con una strip, con una striscia che ho fatto per un giornale, poi come dei giornaletti fatti in casa, delle molto limitate e molto piccoli, poi Chunky Rice che erano circa 100 pagine, poi Blankets 500, poi Habibi 700, secondo me bisogna andare passo passo. Well, I forgot the other part of the question already. Was Blankets written as someone who was not yourself, or what? Yeah, I mean Blankets sort of emerged as autobiography reluctantly. So originally I was trying to change a lot of the details and make it not real, and it sort of came together as reality in spite of itself. But the fiction of Blankets is all the elements I removed. For instance, I have a sister in my family and she's not in the book. And there's a lot of details like that. Obviously you take away the things that are distracting from the story you want to tell. Blankets is an autobiography, but in a manner, I'm not sure to be an autobiography, but originally I didn't want to be an autobiography, and I tried to describe a story that wasn't my true story, but the reality reemerge, or if it was a long way, and so it was imposed. Quello che è immaginario è ciò che io ho rimosso, per esempio una sorella nella vita reale, ma ho rimosso l'esistenza della sorella perché non mi interessava, e quindi quello che ho tolto, che è immaginato, piuttosto che non quello che ho lasciato. La sorella si è arrabbiata. No, she was relieved. So, the nature of Blankets was that my family's not very communicative. They don't really talk about anything of emotional importance, but working on Blankets really forced me to talk very intimately with my brother and sister for the first time. So, we were talking about our shared childhood experiences, and about our religious lives, even our sexual lives, and a lot of that worked its way into the book. No, era sollevata del fatto di non esserci. Per quello che riguarda la natura di Blankets, tenete presente che la mia famiglia è una famiglia in cui non si comunicava particolarmente, e quindi c'era una specie di veto sulla discussione emotiva. Nello scrivere Blankets mi sono trovato a discutere con mio fratello e mia sorella, forse per la prima volta. Abbiamo parlato delle nostre esperienze, appunto, di come eravamo stati allevati, della religione, e anche delle nostre esperienze sessuali. Tutte cose che poi si sono riscritte nel libro. You can't even tell what that is, can you? No, so my sister really wasn't a major part of the story I wanted to tell. she would have been a background character, and so I felt it was like more insulting to leave her in there as an unimportant character than to take her out altogether. And again she was relieved that she didn't have to worry about how she was represented in the book. Mia sorella, per quello che riguardava la dinamica della storia che andava a raccontare, mia sorella non sarebbe mai stata un personaggio importante, sarebbe stata più un personaggio secondario, di sfondo, e quindi mi sembrava un insulto maggiore lasciarla come personaggio minore piuttosto che non toglierla. Lei, di nuovo, era molto sollevata perché perlomeno non doveva fare i conti sul come sarebbe stata rappresentata all'interno della storia. Allora, siccome mi hanno detto che bisogna chiudere, nonostante la mano alzata, e siccome invece qui c'è l'atmosfera che andremo avanti ancora per un paio d'ore, io direi che assistiamo alla conclusione del disegno di Craig. Gli facciamo un grande applauso. Wow, thank you. Grazie. 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 Grazie a tutti per la scuola. Grazie a Luca per queste domande. Grazie a Luca per queste domande. Grazie a mio migliore tradizionatore. Perché il successo di qualsiasi libro in un paese dipende dalla persona che l'ha tradotto. grazie moltissimo. Grazie a Craig Thompson. Ti aspettiamo tra cinque anni per il tuo prossimo libro di 1500 pagine. Grazie ancora. Grazie. Grazie ancora.